Una città curata darà lustro non soltanto alla città stessa ma aiuterà un motore importante che è quello del commercio che in questi anni ha avuto una battuta d'arresto, così come credo che sia venuto il momento di cambiare le politiche rispetto ai parcheggi della città. Proprio per aiutare il commercio e chi gli siede in centro cittadino sarà importante che considerare dei momenti in cui i parcheggi siano non a pagamento ma liberi. Sono certa che questo potrà aiutare anche a far riprendere vita a una parte importante della città come quella del commercio.